Uno dei casi, degli argomenti che più mi convincono di una non sincerità diciamo di fondo nei confronti delle altre religioni da parte dell'organizzazione della Watchtower è proprio questo, diminuire, minimizzare al massimo la realtà dei morti in nome di Cristo avvenute nel corso non solo del primo secolo e sono stati tantissimi già nel primo secolo lui stesso, lei stessa ammette parlando nelle attore di guardia di un numero altissimo che tra l'altro creerebbe un grosso problema anche per quanto riguarda gli ultimi questo sarà oggetto di un altro video, però capite calpestare e dire che non ci sono stati praticamente o che questi martiri siano martiri di serie B perché morti sì in nome di Cristo, morti per proclamare il cristianesimo, la buona novella, però vabbè questi qui e i testimoni di Giove però non sono anche gli unici a disprezzare in qualche modo, a non tenere conto di questi nostri fratelli che hanno dato il sangue, la vita per Cristo, non ci possono essere tra i cristiani martiri, martiri di serie A e di serie B anche se ci possono essere discordanze dottrinali, ok, perché ci sono, ok, però a mio avviso quando una donna fa in questa occasione così, no? che nessuno se l'aspetterebbe un gesto di questo tipo c'è tutto il dolore di un popolo che pur di non rinunciare alla propria fedeltà a Cristo ha pagato un prezzo altissimo ecco perché la Torre di Guardia si limita a padre Massimiliano Colbe che è l'unico martire praticamente di cui parla di tutta la storia di persecuzione contro i cristiani con tutto l'affetto che voglio a questi nostri amici che comunque anche per colpa di una gestione poco accorta della questione in Russia stanno pagando comunque con il carcere però nessuno di loro è stato ucciso dobbiamo ritornare all'epoca dei Lager allora, dei Lager però non dimentichiamo che non è certamente stato solamente padre Massimiliano Colbe quella che mi sembra addirittura venga definita come una eccezione ecco questo significa sputare sul sacrificio di tanti altri che sono morti appunto per la loro fedeltà a Cristo in un altro video parleremo fra poco ad esempio della figura di Edith Stein